Dall'emergenza migranti al tema delle infrastrutture e dei collegamenti stradali, dall'esigenza di offrire maggior servizio di trasporto pubblico locale all'impegno sulla transizione digitale, senza dimenticare l'offerta assistenziale per una popolazione sempre più anziana. Per i 312 comuni del territorio metropolitano torinese è arrivata l'occasione per scrivere il proprio futuro insieme a Città Metropolitana di Torino, per scegliere le priorità su cui investire e condividere dove e come. La stagione è cruciale perché la Città Metropolitana di Torino ha specificità uniche in Italia, ha detto aprendo i lavori il sindaco metropolitano Stefano Lorusso. L'appello a scrivere insieme e collaborare alla redazione del Piano Strategico Metropolitano è stato sottolineato anche da Sonia Cambursano, sindaca di Strambino e consigliera metropolitana allo sviluppo economico. Oggi è una data particolarmente importante per noi perché presentiamo quelle che sono le linee di indirizzo del Piano Strategico che è il documento fondamentale dell'ente. Ciò che noi vogliamo è che questo Piano Strategico segua la logica di condivisione e partecipazione dei territori. Per questa ragione il mio invito è a tutti i protagonisti che siano enti locali oppure anche altri protagonisti del territorio affinché partecipino insieme a noi alla redazione di questo che è lo strumento che ci fornisce la visione di dove vogliamo portare il nostro territorio metropolitano. Cristina Ghiringhello, le nuove linee del Piano Strategico Metropolitano per i prossimi anni possono essere un tassello per lo sviluppo del Canavese? Beh, sicuramente sì. Siamo una parte per noi fondamentale dell'area metropolitana torinese. Si tratta di quasi 160 comuni con ancora una forte industrializzazione soprattutto nel settore della meccanica e dell'informatica e tante attività che garantiscono ancora lo sviluppo da un punto di vista imprenditoriale. Noi abbiamo anche un buon livello di scuola, di formazione, di potenzialità di attrarre giovani e su quello vorremmo molto insistere insieme dentro all'area metropolitana di Torino. La conclusione dei lavori è stata affidata a Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese e presidente di Alipiemonte. L'idea di lavorare su un piano strategico è fondamentale perché è l'unica strategia possibile per tentare di tenere insieme un lungo periodo e soprattutto tenere insieme le diversità di quelle velocità diverse che ci sono all'interno della città metropolitana.